Sono Jennifer, ho 25 anni e ho appena concluso il corso IFTS di amministrazione d'impresa qui in Galdus. Ho frequentato l'Istituto Tecnico di Servizio Commerciale fino al quinto anno. Dopo aver ottenuto il diploma mi sono coinvolta nel mondo del lavoro. Ho conosciuto il corso IFTS di amministrazione d'impresa tramite passaparola. Mi è stato consigliato da un ex studente, mi sono interessata e ho contattato Galdus per un primo colloquio. Durante il corso abbiamo approfondito gli aspetti delle fatturazioni, contabilità, bilancio e aspetti fiscali tributari. Inoltre abbiamo sviluppato un project work per la costituzione di un'azienda. Il valore aggiunto del corso IFTS di amministrazione d'impresa è quello di unire la formazione tecnica teorica in aula allo stage di azienda. Ho svolto lo stage presso lo studio commercialista Ferrari. Durante lo stage sono stata affiancata da una collega finché poi sono diventata autonoma a gestire la parte contabile del cliente dello studio. Crescita, fiducia mie stessa, opportunità di lavoro.